Urbanizzazione e società di massa Gli anni tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento, in Europa, sono quelli della Belle Epoque, un'età di benessere e spensieratezza rispetto alle inquietudini che più tardi saranno suscitate dallo scoppio del primo conflitto mondiale. La Belle Epoque inaugura la nascita della società di massa, soggetto dinamico dotato di un punto di vista e aspirazioni proprie, che porta con sé un profondo cambiamento negli stili di vita e nei costumi, le cui cause sono l'affermarsi di nuovi metodi di produzione industriale, come il taylorismo e il fordismo, e della grande impresa, frutto della concentrazione industriale e finanziaria, la maggiore disponibilità di beni, con la nascita dei grandi magazzini e degli oggetti in serie resi noti dalla pubblicità, e la diffusione del tempo libero non più a pannaggio dell'alta aristocrazia, da cui si sviluppano sport e turismo, e in ultimo il fenomeno dell'urbanizzazione, con la nascita delle grandi città ad alta densità demografica, che modificano i rapporti sociali e le abitudini. Il diffuso benessere registrato nella Belle Epoque trae vantaggio, da un lato, dai progressi medico-scientifici, che consentono il miglioramento delle condizioni di salute, grazie ad esempio alle vaccinazioni, alle radiografie diagnostiche e alla pastorizzazione degli alimenti, dall'altro dal progresso tecnologico, che porta modernizzazione negli ambiti della vita quotidiana, ad esempio con la diffusione dell'illuminazione elettrica, del riscaldamento o dei servizi igienici, dei trasporti, con l'invenzione della bicicletta, primo mezzo di trasporto di massa, e poi dell'automobile e dell'aeroplano, della comunicazione, con l'aumento delle tirature dei giornali, l'invenzione del telegrafo senza fili, da cui nascerà la radio, e infine del cinema, mezzo potente amato da tutti i ceti sociali. Grazie a tutti.